Si è visitato e può andare a casa. Si parla di una cinquantina di persone, non si sa se probabilmente arriva ancora qualcuno, però adesso non... In quelli ospedali li stanno rispondendo? Quelli che hanno la disponibilità, per esempio San Raffaele, Melzo, Sentito, quelli più vicini. E dentro come li stanno assistendo? Ci sono degli psicologi e delle persone di Areu che li stanno visitando, li stanno controllando, compilando una scheda, che hanno loro come procedura fuori in mente, e poi li spostano in un'altra parte man mano che li controllano. Poi chi sta sentiti andare a casa, firma e va a casa. Diceva che sono assistiti anche da degli psicologi, quindi la paura e il trauma anche psicologico. Quello è la prima cosa, quando si fa un'emergenza di questo tipo, la prima cosa che fanno è quella, a parte il soccorso della persona. Quello è il problema, è capire come stanno. Di salute, scusate.